Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro nuovissimo video oggi apriremo la LOL Surprise Light Glitter è veramente bellissima, non so chi troverò però lei già è stupenda, guardate cioè è tipo con le trecine di qua, bellissima e le andiamo subito a spacchettare io sono curiosissima quindi andiamo subito a spacchettarle insieme sono veramente curiosa perché è la prima ovviamente le voglio spacchettarle con voi e quindi apriamola subito ovviamente praticamente mio padre visto che lavora ai supermercati ha potuto comprare a un supermercato l'Ocean perfetto, qui abbiamo il nostro indizio molto coperto, devo dire abbiamo un occhio un quattro e delle mascherine poi c'è scritto hi for drama o dream, non lo so io so molto bene l'inglese però non lo so comunque che poi sarebbe un occhio quindi io non si aprono mai bene mai io non sapete ragazzi ecco il percato una volta l'ho aperta una volta la cerniera l'ho bene ha fatto però l'ho aperta molto bene però vai via apriamo questa è la ball ma che è volato io ho sentito non lo so questa qua è la oddio questa è quella ball nera è tipo gialla che si vede tipo trasparente tipo gialla trasparente e qua è la nostra palla di pello qui quante sorprese le istruzioni ciao questo la apriamo dopo c'è la checklist la checklist la checklist la nostra lol e le buste sono tutte joll bello joll è il mio tipo col da preferito però che cos'è questa cosa minuscola una collana abbiamo tantissime bustine e le andiamo ad aprire e abbiamo questa cosa piccola 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 oddio che cos'è una mini cioè non è una mini collanina una non ho capito forse una cinta perché una collana per le lol non è così lunga è oro come potete vedere però non lo so poi facciamo questo sarebbero degli occhiali mi sembra mi sa che sono degli occhiali apri oddio si sono degli occhiali che sembrano che cambiano colore però non cambiano colore un biberon wow ma è bellissimo forse questa qua forse so chi è però non mi ricordo è bello con tutte le fiamme è bellissimo wow ragazzi è bellissimo questo compitino tutto fiamma abbiamo una bustina gigantesca dove c'è ovviamente guardate vi faccio vedere come funziona ovviamente così se la comprate eccola così spegne voilà ecco con questo bottoncino si spegne e qua abbiamo l'ultima bustina cioè le scarpine dove le faccio vedere meglio aspettate sono di un colore veramente meraviglioso io ero venuta di dare il bambino con la nostra piccola lol vediamo è bellissima cioè ragazzi no ragazzi è bellissima ma che bella è bellissima cioè ha i capelli corti come a me guardate io prima ce ne avevo un pochettino più corti ora ce ne ho un pochettino più lunga ovviamente perché crescono è normale è bellissima ora la vestiamo qual è il davanti e qual è il dietro penso che questo qua è il davanti ok guarda che carino veramente bello però ovviamente ragazzi dovete essere sempre a casa che vedrete che andrà tutto bene ok aspettate che mettiamo gli occhiali ma questa qua è una cinta alla fine oddio sì una cinta sì perché per una collana piccola c'è uno molto piccolo lol quindi dovrebbe essere una cinta così bisogna metterla forse più indietro ora mettiamo questa super fashion la nostra piccola lonna aspettate che ora ve la faccio vedere eccola ora vediamo nella checklist come si chiama vediamo vediamo un po' come si chiama sono veramente ragazzi ho visto veramente una cosa che carine che sono tutte belle ah ecco lei si chiama qua lei è qua ed esputa qua è fire fire credo che sia lei si chiama fire e poi ci sono tantissime lol veramente belle questa è bellissima l'ultra rara veramente ragazzi poi c'è anche questa che è veramente molto bella e dietro ci sono altri ma è bellissimo questo cioè è strano perché metà è femmina e metà è maschio che forza guarda che carino tipo questo qua è maschio e questo qua è femmina ok come si chiude vabbè comunque questo qua mi piace di più senza occhiali perché questi occhiali sono carini però mi piace di più così guardate che carino ora ragazzi spegniamo le luci che ora è arrivato il momento di non so non essere ovviamente poi chiuderò le comunque non mi ricordo come si chiamano però è bellissima ragazzi devo dire cioè è bella cioè è favolosa ora vi faccio vedere che ora diventerà tutto buio e possiamo andare a vedere che si illumina tipo al buio con questa lucina oddio ragazzi guardate ma già si illumina così però meglio con la luce forse spenta quindi ora si spegneranno tutte le luci ecco ragazzi siamo tutti al buio guardate ciao guardate che bello cioè si illumina tutta ed è fluo è bellissima ragazzi ora ritornerò ovviamente alla luce ovviamente perché non posso restare tutto il tempo così ok ragazzi ora andiamo a accendere le luci che devo salutare alcuni miei fan ragazzi allora l'avete vista quanto è bella cioè praticamente con il fluo un pochettino qua si vedeva come potete vedere però volevo fare vedere tutta al buio immagate che la vedete meglio questo video ragazzi è ormai finito quindi mi sono diventata moltissimo con voi ovviamente mi divertisco sempre con voi ovviamente vi faccio ridere alcune volte veramente molto bello il libro molto morbido quindi va bene ragazzi se vi è piaciuto il video fatelo sempre sapere con un like iscrivetevi al canale per non perdervi i miei video e saluto a Desiree Giada Sofia Maradona Nazmun Nazmun poi saluto a Giorgia Giulia e Serena e ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao